Io ribadisco quello che ho detto, quindi sul tema della votazione mantengo la posizione che ho affermato, cioè quella che noi non l'abbiamo scritta nel programma, quindi non l'abbiamo prevista, e ricordo che appunto poi quella decisione lì è la decisione che deve prendere l'assettaria dei soci e quindi io nella assettaria dei soci avrò questo tipo di posizione. Rispetto alla ripubblicizzazione dell'acque bisogna fare differenziazione perché magari come si sa, fra quelli che sono gli strumenti dell'azienda che gestisce un servizio è la holding. La holding controlla le quote delle aziende, la multiutility è al 100% pubblica, l'acqua SBA appunto, la holding multiutility detiene il controllo del 20% delle quote di acqua SBA, noi vogliamo che acqua SBA torni al 100% pubblica. L'abbiamo detto, il 13 di settembre, rimanda anche nel video, visto che c'è chi fa il video, il 100% pubblica e quindi possiamo affermare con la convenzione questa cosa che siamo gli unici, non solo averlo detto, ma averlo fatto, perché il Consiglio Comunale abbiamo votato da soli a favore di questo percorso.